Continua l'emoragia di dipendenti comunali. Oggi sono 672. Entro il 2015 andranno in pensione 45 lavoratori di Palazzo Mercanti, a cui si sommano i 25 che l'hanno già fatto nel 2012. Il totale 2012-2015 è dunque di 70 pensionamenti, ma non ci saranno altrettante persone a sostituirli. L'amministrazione ha fatto una ricognizione tra i vari settori della macchina comunale e ha stabilito che il fabbisogno di personale è di 78 unità. Una cifra solo teorica però, perché i paletti di leggi in materia di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni sono molto rigidi, quindi il Comune di Piacenza nel triennio 2013-2015 potrà effettuarne solamente 19. Ben 15 arriveranno nell'anno in corso, tra cui quella del comandante della Polizia Municipale, per cui negli ultimi mesi dell'anno dovrebbe essere pubblicato il concorso. Per il resto poco altro. Nel 2013 arriveranno anche un dirigente dell'area sociale, un operatore tecnico, un analista programmatore, un operatore contabile, un addetto amministrativo e 9 educatori. Nel 2014 è invece previsto l'arrivo di due dirigenti e altrettanti nel 2015. Per tutti e tre gli anni il Comune è precisa che sarà garantita la continuità dei servizi per l'infanzia, mediante le assunzioni di personale educatore a tempo determinato, per la copertura dei posti necessari ad assicurare il rapporto bambini-educatori negli asili nido gestiti in forma diretta. Tali assunzioni saranno necessariamente contenute nei limiti al tempo definiti dalla relativa legge di stabilità. A fine 2015, quindi, i dipendenti comunali dovrebbero scendere da 672 a 646 con un saldo negativo di 26 unità.